Matteo, Simone, Massimo, Tennis e Cristian Gli insegnanti della scuola di magia in ordine di apparizione Ricky Dr. Jack e Mr. Carl Mago Mark Mago Joe Ecco, c'è anche i grandi pensetti Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Allora, voi adesso lasciate il filo caddiero e venite avanti a noi Vieni, voi deve stare davanti Un applauso a Castel Falcote Grazie, grazie mille Vestetti da Las Vegas, anche lui, no? Ebbene, i Super 9 ormai hanno superato i maestri l'allievo che supera il maestro Oltre al club magico di Viterbo ai Super 9 chiamiamo anche chi è l'organizzatore primario della scuola di magia qua a Viterbo e rappresentanza dell'associazione culturale Tuscia Evans abbiamo Vanessa Allora, Vanessa ti passo il microfono e non ti faccio un interrogatore che non piacciono quelle domande Prego Grazie a tutti per essere venuti a questo spettacolo e niente, io farei un'altra pausa a questi bravissimi maghecci sono stati veramente strabiliosi Ebbene, allora insieme a Vanessa che rappresenta tutta Tuscia Evans come associazione e anche come radio web radio Tuscia Evans vi ricordiamo in conclusione di questo spettacolo che ci sarà il proseguito della scuola di magia e ve lo promettiamo tutti insieme la scuola di magia firmata Tuscia Evans in collaborazione col club magico di Viterbo e quindi se vi è piaciuta non li deve super 9 i super 9 potranno diventare super 10 11, 12 e super 100 chissà quanti ci sono già le iscrizioni che sono aperte con una possibilità di sconto in percentuale per chi si scrive prima diciamo ti dorme non piglia pesci ecco questo è il motto e vi ricordiamo un'ultima cosa prima di salutarvi qua fuori c'è un cesto perché è giusto dire che per il secondo anno facciamo lo spettacolo della scuola di magia qua al teatro del Morialdo e padre Angelo la parrocchia non ha mai voluto un euro da parte nostra per questo possiamo tutti contribuire a fare una donazione per la parrocchia visto che comunque lo spettacolo è ad ingresso libero è giusto che usando questa struttura contribuendo anche noi a aiutare questa parrocchia qua fuori troverete un cesto perché alcuni erano già entrati e è stato messo dopo se volete a vostra collizione potete lasciare un'offerta qua fuori bene penso di aver detto tutto il club magico di Viterbo Tuscia Evans e i Super 9 vi salutano grazie a tutti e lo posso dire a tezzo a nome di tutti che siete stati il miglior pubblico che potevamo avere questa sera grazie e alla prossima occasione col club magico Viterbo e i nostri Super 9 grazie a tutti grazie a tutti Grazie.